Ciao a tutti da Poderacche, in questo video andremo a aprire un pacco che mi è arrivato da Amazon si tratta della Ethernet Shield per Arduino, si tratta di una scheda che ci permetterà di collegare il nostro Arduino a Internet adesso andremo a vedere il suo contenuto, mi è costato solamente 6€ e prima di arrivarmi ci sono voluti circa 15 giorni comunque diciamo è abbastanza buono dato che appunto viene dalla Cina e di solito ci vuole un mesetto prima che arrivano i componenti adesso apriamo e vediamo cosa troviamo, noto già che è contenuto all'interno di quelle buste anti elettricità statica l'unica cosa che mi preoccupa sono i pin che come vedete ecco lì in bassa destra vediamo già un po' piegato il fatto che i pin dato che è stato contenuto su una busta piuttosto molle e non in uno scatolo diciamo avrà comportato sicuramente un po' il piegamento dei pin diciamo non è un problema grave però bisogna un po' raddrizzarli non appena usiamo la scheda perché appunto per collegarla dopo sull'Arduino 1 i pin devono essere assolutamente dritti altrimenti facciamo fatica a collegarli tutti con l'Arduino 1 comunque per il prezzo che ci è costato solamente 6 euro da Amazon diciamo non possiamo chiedere di meglio adesso vediamo togliendo la protezione dei pin diciamo non sono proprio messi male qualcuno è piegato adesso provo a piegarlo ecco si muovono sono abbastanza delicati ma comunque nulla di preoccupante si raddrizzano facilmente dopo alla fine del video lo sistemerò e comunque questa scheda alla fine la utilizzerò per i prossimi video tutorial per spiegarvi un po' come collegare il vostro Arduino a internet ci sarà sicuramente di aiuto come vedete questa qui è diciamo composta da tutto anche dallo slot della micro SD per caricare dopo il nostro sito e possiamo poi collegare tutto ad internet senza problemi tramite la porta ethernet di cui è costituita la scheda comunque il video finisce qui lo so diciamo non è stato proprio ottimo dato che abbiamo visto che i pin non sono in condizioni proprio ottime comunque non preoccupatevi alla fine si riescono a raddrizzare tranquillamente la scheda l'ho anche provata alla fine del video e vi posso assicurare che funziona senza problemi e appunto in futuro realizzerò dei video tutorial sul suo funzionamento mi raccomando se volete lasciate un bel like al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video tutorial